ecco facciamo uno lavora come un minuto l'altro lavora postazione un minuto ok come sarebbe questa prima qua vado sul parto se torno sempre nel primo vado torno vado torno a lungo nel terzo torno corsetina uguale vado torno vado torno allungo torno sempre nel primo vado torno vai su questo torno e dietro velocità voi allunga nel ultimo corsetina mentre fai questo uno lavora come qua tocca palo blocato tocca palo blocato sempre alto ok poi cambiamo prepara vai una vai vai bora bora sempre centralio bora bora vai bora bora mati corsetina la vai alunga alunga vamos 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 o circuito de resistenza oggi bora vamos vamos bora 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 lorec bora ora ora vamo um minuto um minuto bora vai Scusa, vamo, 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 continua Mati, vai, avanti dietro, bora, vamo, 20 secondi, vamo, vamo, vai, vai, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, stop Mati, 3, 2, 1, stop, recupera, 40 secondi recupero, ok, li toco il palo sempre alto, va bene? Velocità, velocità, avanti dietro, stiamo bene? 10 secondi, 5, 4, 3, 2, 1, vai, sempre alta, bora, 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 vamos, bora, vamos, bora Mati, vai, Mati, bora, vamos, bora, bora, vai, Vai! 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 Vamo! Vamo! Vai! Vamo! Vai! Vamo! Avanti dentro! Vamo! Vamo! Vai! Vai! 10 secondi, dai! Vamo, vamo Matti, vamo Matti! 5, 4, 3, 2, 1, finisci! Stop! Recupero! Cambiamo postazione. Tocco, croce, tocco, croce, lì, ok? Qui è burp up, scendo, tocco il petto, salto, attacco, diagonale. Torno piano, sdraio, altro, salto, cambio lato. Cambio di direzione, quando salto mi fermo, cambio e cambio, ok? Qui tocco, croce, croce, croce. Galera! Vê se tá pegando tudo aqui. Ah! Vamo, vamo! Prepara! Buona, buona! Dora! Uno, vamo, vamo, vamo! Due, vai! Tre! Buona, buona, buona! Alore! Bravo! Vamos! Coordenativo, coordenazione, dai! Bora! Bora! Buona, 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 vamo, vamo, vai, 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 vamo Matti, vamo Matti, buona Lore, vamo Lore, vamo, 5, 4, 3, 2, 1, fai l'ultimo Matti, stop, vamo, salta, cambio, bravo, recupera, facendo un circuito aeróbico, ben legal oggi, belezza, recupera, 40 secondi, recupera adesso, ok? Volete prendere acqua per bene, veloce. Come stai, bene? Toca o crutch, coordenativo, senza feta però, toca o crutch, toca o crutch, bloca la pala, passa la pala bene, ok? Stai bene, Dolore? Vai, 5 secondi 2, 1, vai 1, vai 2, vamo, 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 vamo Buona, vai, vai, vai Matti Buona, vamo 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 Vai Chiude bene le gambe, abassa bene Bravo, bloca bene la pala Bravo, mano dentro la pala, bravo Vamo, vamo, vamo Vamo Vai, vai Vamo 5, vai 5, vai 4, vamo 4, vamo 3, vamo Vai 2, vamo Vai 1, stop Stop, Lore 1 minuto 1 minuto, recupero 1 minuto, recupero Quintigamente Vai Toca, tutta sinistra, fai Fai 8, 8 sinistra E dopo Toca Otra palata, blocando Toca, bloca alto Ok? Va bene Continua, Matti Aspetta Vai Vamo 1, vamo 2, bravo Bravo, fai bene giro Bravo 3, buona Vai 4, buona Vai 5, buona Vai 6, 2, vamo 7, ultima 8, vai Toca, bloca Toca 1, sposta bene Vai 2, vai 3, vai 4, vai 5, vai 6, altre 2 Vai 7, vamo l'ultima Vai Cooperar Ele não tá podendo fazer quedinha pro lado esquerdo, que ele bateu e machucou Pro lado direito Então ele tá fazendo só queda pra um lado e bola alta no outro Tu, tufo, desce sinistra 7, tufo 1, 2, 3, 4, 5, final de sede Ok? Bloca Me dá a pala, gira Vai 3, 3, freta Passa Apoja Mano e piede Gira Tufo Mano e piede Ok? Recupera Recupera 20 segundos Agora Bloca Passe Passa Passo Pala alta e meno e passo o quarto Gira Ok? 5 secondi Trevante, tufo sempre in diagonale Prepara Vai, tufo qua, bora Passa, giro, 1, 2, 3 Giro, 1, 2, 3 Bravo, vamos, vamos, apodre a mano e piede Bravo, vamos, mano e piede Vai, vai, mano e piede Vamos, vamos, vamos Vai, tu tredui a mano, apodre, vamos Bravo, vai, vai, vai Bona, vamos, vamos Vai, apodre, vamos Troppo avanti, comenta a andare dietro Vai, comenta a tuffar dietro Bravo, vamos Altra 3, 2 L'ultima Buona Marti Perfetto, recupera Ali 30 addominali Solo 30 addominali Cambiamo tu o l'altra parte Scivola, no? Problema che Weber utilizza Il giocatore di Serie A che usa Ma perché? Qual è il problema? Scivola Com'è il tecido? Devo vedere No, questo L'altra tecido C'è uno Come qua Non c'è un altro materiale Che si attacca, capito? Perché l'altra le trovi al nostro Eh? Pronto, sempre qui Abdominale Però Quasi finiamo Dai Tu non può appare il tuffo Della altra parte Passaggio Toca o tuffo Toca o passaggio Toca o tuffo Tu toca Passaggio Com sinistro Toca Tuffo Ok Vai Bora Vai Bora Vai Bora Vamo Vai Bora Cinque minuti Va bene L'ultimo Passaggio L'ultimo tuffo Ok Dai Recupera Vamo 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 Vai Che oggi si muore Dai Vai Come siamo Fatto Recupera Recupera Vai Vai Più avanti Più avanti Vai Sempre Mezzo Le gambe Attacate Con i presi Nascendo Bravo Così Scende Senza E prende Vai Torna Perfetto Ok Recupera Ancora 10 secundi Noi Noi facciamo Passaggio Tocco Passaggio Tocco Tocco Tufo Quattro Di questa Parte Due Quattro Sei di questa Parte Cambiamo Lato Facciamo Sei dell'altra Parte Ok Inizia Con Passaggio Pronto Lore Vai Toca Passaggio Codestro Toca Tufo Vai Passaggio Buono Con le mani Passaggio Buono Con le mani Con i piedi Vai Tufo Vai Bravo Vai Passaggio Vai L'ultimo Tufo Ok Cabiamo Lato Toca Lato Passaggio Vai Passaggio Buono Diagonale Atenta Ipalo Vai Passaggio Con sinistro Ativo Toca Tufo Diagonale Bravo Perfetto Vai Passaggio Buono Vamos Tufo Tres Recupera Stop L'ultimo Facciamo Tutti Trem Semi Tutti Due Semi Lut Parto 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 De ginocchio Palla In mano Prendo la palla Qual'altro Passo La palla Glocco Passo Una volta Alzo Con la destra Una volta Alzo Con la Seguro Passo La palla Cacifaccia lascio la palla, attacco, ok? vado di là, alzo con la destra uno, due, tre alzo, uno, due, tre, torno calcio calcio sempre alto, ok? calcio alta io calcio qua, lascio, adesso con la uno, due, tre, torno di dietro calcio in faccia, lascio la palla uno, due, ok? tre, tre io calcio sempre in faccia prende la camera, mette più vicino quella camera bravo in una passata, uno, due, tre fai vedere perfetto, torna con sinistro ok, quando torna io calcio qua calcio qua, bora che le tu dove vai, vai alza con la gamba giusta, vai con sinistra desce, vai sinistra uno, due, bravo, torna là bora, desce, vamo bona, torna là, vai bona, vai, cambia sinistra desce, bravo torna là, destra bora vai, sinistra finisci là con la sinistra stop, cambio agua, lore vai, senta la palla centro alza con la destra deve essere un passaggio solo mette la gamba qua vai con la destra torna di qua, la destra mette qua i piedi tacco sinistra là bravo uno, due, tre uno, due, tre essere veloci ok, un po' più dietro in faccia pronto bora passa, vai no, sinistra e bade sulla destra bravo vai, punta la liga ok, alta gamba sinistra sulla destra bravo torna dentro gamba destra verso sinistra bravo torna dentro bora sinistra verso destra bravo bora vai lá bravo l'ultima su sinistro vai sinistro gamba sinistra l'ultima con sinistro vai parte con la sinistra vai sulla destra parte con la sinistra e fai palazzo tu vai atare la sinistra e vai andare sulla destra palazzo bora vai sinistra acqua non ferito ok grazie a tutti